Comandi di base da insegnare al cane utilissimi per chi fa attività, tipo anche ad esempio la ricerca del tavolo. Come si insegna un seduto, si mette davanti al cane, gli si fanno usare un bocconcino e si sposta all'indietro. Il cane naturalmente si siede e allora a quel punto lo premiamo. Bravo! Una volta ripetuto un po' di volte questa azione, lo si insegna poi aggiungendo il nome del comando. In questo caso quindi Whiskey seduto e si premia. Bravo! Un altro comando utile di base è il Terra. Che si insegna facendo scendere, dopo che il cane ha imparato il seduto, si mette sempre un bocconcino davanti e si insegna facendolo scendere. Seduto. Vedi? Il cane si siede, il cane si stende e si premia. Seduto. Bravo! E a quel punto diciamo proprio sempre la parola Terra. Seduto. Terra. E si premia. Bravo! Un altro comando fondamentale da insegnare. Vieni e il resta. Seduto. Diciamo seduto. E a quel punto ci allontaniamo un po' e gli diciamo fermo. Resta. Se il cane resta, lo prendiamo. Bravo! Bravo! no